È un bambino che ha trascorso quasi tutti i suoi due anni e otto mesi di vita con una famiglia affidataria, ma il 14 novembre dovrà fare ritorno alla famiglia biologica, recidendo ogni legame con quelli che per due anni, 24 ore al giorno, sono stati il suo babbo e la sua mamma, i suoi nonni, la sua casa, il suo asilo, la sua città. In una petizione online che ha raggiunto 6.500 firme è stato ribattezzato Cacao, nome di fantasia, per un bambino che rappresenta un caso che ha mosso sentimenti, coscienze e interrogativi giuridici. Un bimbo conteso fra due famiglie, quella di una coppia pesarese che accettò un affido a rischio giuridico e quella biologica composta dalla mamma e dai nonni materni, residente a pochi chilometri da Pesaro, che qualche mese fa ha vinto il ricorso in tribunale per riavere il piccolo con sé. Nel nostro ordinamento la famiglia affidataria viene totalmente estromessa dal procedimento inerente il minore. Tuttavia è previsto l'ascolto della famiglia affidataria piena di nullità, proprio anche per verificare il legame affettivo che si è instaurato durante il periodo d'affido tra proprio il minore e la famiglia affidataria e se del caso prevedere una frequentazione, il mantenimento di una frequentazione anche successivo al rientro del minore presso la famiglia biologica, famiglia che comunque per due anni ha accudito in tutto e per tutto, 24 ore su 24, un bambino di appena due anni e otto mesi, quindi praticamente per tutta la sua vita. Questo purtroppo nel caso di specie non è avvenuto, gli affidatari non sono stati sentiti e questo ha comportato appunto una carenza della garanzia della cosiddetta continuità degli affetti. Soprattutto i genitori affidatari non sono legittimati ad impugnare questo provvedimento, un provvedimento che ha reso la Corte d'Appello d'Ancona che ha ribaltato il provvedimento del Tribunale dei minori che prevedeva il mantenimento del minore presso la famiglia affidataria. La Corte d'Appello, basandosi sulla stessa CTU del primo grado e senza effettuare una verifica sulle condizioni della famiglia biologica, quindi che originariamente avevano portato l'allontanamento del bambino dalla famiglia biologica, ha invece previsto che il bambino dovesse rientrare nella famiglia biologica dal 14 novembre prossimo. In settimana il caso Pesarese è stato oggetto anche di un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della Giustizia per portare valutazioni approfondite sul quadro normativo in materia. Ci auguriamo che sia l'inizio di un cambiamento che possa scongiurare e ripetersi di situazioni così gravose soprattutto per l'interesse del minore che dovrebbe essere al centro di tutto. Agli affidatari, ai genitori affidatari non resta che sperare che la famiglia biologica collabori e non gli estrometta dalla vita del bambino proprio per la primaria serenità del piccolo.